Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar sul tema della certificazione della comunicazione eh in tema di olio di palma sostenibile. Io mi chiamo Carlo Alberto Pratesi, insegno marketing, innovazione e sostenibilità all'Università Roma 3, ma oggi in questa sede sarà un po' il moderatore, il facilitatore di una discussione su un tema non semplice che è quello proprio del come raccontare al mondo il tema dell'olio di palma, soprattutto tenendo conto del fatto che diciamo non ha sempre goduto di buona reputazione, mettiamola così. Quindi oggi cercheremo di capire quali sono le regole e quali sono i suggerimenti che sarebbe giusto seguire per fare in modo che le persone capiscano realmente quali sono le opportunità e i rischi di questo importante olio vegetale. Ma prima di avviare darei subito la parola a Mauro Fontana, presidente dell'Unione Italiana per l'olio di palma sostenibile. Ma Mauro devi mettere il microfono, scusami. Ok, scusate. Buongiorno a tutti. Come detto, ieri abbiamo approfondito come l'olio di palma sostenibile può concorrere al raggiungimento dei 17 SDGs dell'ONU, in particolare per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali legati alla nutrizione sostenibile e alla zero deforestazione. Oggi invece affronteremo i temi della certificazione e della comunicazione. Sono due temi cruciali e non meno importanti di quelli di ieri, perché sono i due pillar che sostengono la diffusione, la possibile diffusione dell'olio di palma sostenibile, in quanto bisogna evidenziare come la sostenibilità certificata dell'olio di palma sostenibile sia una garanzia concreta di quanto dichiarato e dobbiamo anche riuscire a diffondere in modo sempre più trasparente e oggettivo i grandi passi avanti fatti dai paesi produttori verso una sostenibilità sempre diffusa e ampia. Solo rassicurando i consumatori, i cittadini e le istituzioni della reale capacità dell'olio di palma sostenibile di non essere attore della deforestazione, riusciremo a far sì che il meccanismo di incremento di questa quantità di olio di palma sostenibile che oggi nel mondo rappresenta il 19 per cento dell'olio totale di palma possa incrementare ed arrivare in un tempo ragionevolmente breve alla quasi totalità o alla totalità. L'unione di palma olio sostenibile è nata nel 2015 grazie all'impegno di aziende trasformatrici o utilizzatrici dell'olio di palma e associazione di categoria delle aziende alimentari e di produzione grassi e oli e ha tre principali obiettivi. Il primo è diffondere una corretta informazione basata su evidenze tecnico-scientifiche delle caratteristiche e dei vantaggi dell'olio di palma sostenibile. La seconda è di promuovere l'utilizzo dell'olio di palma sostenibile da parte delle aziende italiane. In Italia ricordo che il food, quindi il mondo dell'impresa alimentare, utilizza olio di palma sostenibile al 95 per cento, quindi praticamente tutte le aziende che utilizzano l'olio di palma sostenibile nel campo alimentare fanno sì che l'Italia rappresenti un benchmark molto importante in Europa e nel mondo e terzo coinvolgere le aziende, le organizzazioni non governative, le istituzioni, i cittadini nella conoscenza dei vantaggi apportati dall'utilizzo dell'olio di palma sostenibile nella sua promozione e nel contrasto delle fake news che ancora oggi lo denigrano. Quindi oggi toccheremo i due punti importantissimi come assicurare che la certificazione sia una garanzia della sostenibilità dell'olio di palma e come la comunicazione possa davvero coinvolgere i cittadini in una revisione critica dei luoghi comuni che ancora oggi vanno per la maggiore su questa tematica. Grazie mille. Bene, grazie Mauro di questa introduzione.